Musica 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 Vita malacosi Tantaram tui, Nusratani Madame Bivi Pese o se l'onest Josu Raffaile Musica Oppenatara Limited Musica 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 La mia famiglia è la mia famiglia, la mia famiglia è la mia famiglia. La mia famiglia è la mia famiglia, la mia famiglia è la mia famiglia. La mia famiglia è la mia famiglia, la mia famiglia è la mia famiglia. La mia famiglia è la mia famiglia, la mia famiglia è la mia famiglia. La mia famiglia è la mia famiglia, la mia famiglia è la mia famiglia. 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 нев不會 ha mai. era la mia famiglia? la mia famiglia è la mia famiglia. Inizia il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info E' un po' di più, non c'è anche più. E' un po' di più, non c'è più. Ma cosa? Il tempo che si senti una pausa di fuoco. Loro qui si senti un po' di più. E' un po' di più, non c'è mai? La mia cosa? Non c'è mai un po' di più. Non c'è mai tutto il po' di più. Non c'è mai più. Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. 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 Non è proprio sentito cheTexto fa, ma non lo voglio. Ah... Si è stato un amore dopo il proprio non rascoltato. Non è proprio sinistra. Non è un paio. Non è un paio. Non è un paio, non è un paio. Sì. Non è un paio Covid, è una paio di morire. è fatta l'attenzione che non c'è un 分ico senza un'imparore se come se non puoi cosa puoi fare se viste non è un po' non stiamo il massimo non è un'imparore un'imparore non è un'imparore ha chiuso Non ci sono le cose che non sono. Voi, non ti dimentico. Non ci sono le cose che non ci sono. Non ci sono le cose che non ci sono. Cosa? 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 La mia pagina è messa la pompa La mia pagina è una fine Ma la mia pagina è una fata Ti fa? La mia pagina è una fata? Hai la mia pagina? Questa è.... Ma non? Ma non ho? Hai il risultato a fare la pagina. Ti fa? Arte ma faccia piarano nel liganò, sa ti malala paicuristi? Tarrafifi faccia liganò senza? Tu avna nienara con lui, Tarrafifi no zanifa, Tarrafifi nienara no cusa no... Anzaja tupco. Anzaja? Tarrafifi? Tarrafifi? Ando ti gandè? Ando ti xoona. special bro,ajiudi, Marla. Tarrafifi no cusa. Tarrafifi et ي demás? Togema, lo lice un Diosireo. Parabasau recently riche il tuo ammir scene. A presto tutto il nostro nostro canale è volata in scemini. non è riuscito a rispondere a lui non ci sono solo ma anche a me non è vero non è vero ma è vero non ci sono ci sono perché non mi piace non è vero che elas sono loro i house. Ma non come fare, non inseriscire il 구�co, di peccia Perfetto do섳� la sua母ancia incoherciz Twee L'agrazione è quello in cui attreverso il cor tourism. Avevamo tutto questo. Nessere insegno di dire gravi torni u teriendo også bambi, non specialmente magari alimento dei рядecziani. Nesseremo non quindi faremo un uomo quanti improvimenti. Mmmmm Ah, questo non è l'unico, non c'è un mase che Ma cosa stai, non c'è un mase che si dice Mmmmm Ma cosa stai, non per se non le so, non? E allora è un mase che non mi ha detto che non le so. Mmmmm Ma che si è un mese? Si, non, mamma Che cosa è la tua? E allora, non c'è? Ah, ah, ah Ma non, le so, non mi mi ha detto Mmmmm C'è l'albanco, non? Ah, Sanna? Tu c'è chiulè l'u? Ti vinto di fare l'anima e ci vuole il potev cavale. Quanto? Quanto è la tua? Quanto è l'anima? Quanto è l'anima? La radioactiv? C'è un malo diritto? Non c'è l'anima già l'anima. Non l'abbiamo ancora. Perchéoras, non l'abbiamo mica nessuno. E' l'abbiamo, non l'abbiamomingto. Si! Non l'abbiamo ancora più iniziale. Non lo so, è pensato che spetterebbe. Non così, non così. Molto! Non, non più. Non ci��에 esistenti di farlo mai, se non ci gente non va a fare farlo. Non, non è un gioco. Non sono nulla. No. Tutti il mio lavoro, non lo so, ma non lo so. Non lo so, non lo so. Grazie. No, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. E' un'espero tanto siano. Buono anni. Siamo anche la mia madre. Non, non, non c'è niente? Poi, fino a dopo! Ma un'espero di una prima idea. Mi roma è solo! frappate ci sono No fanno di rianti. Il kybano! Il kybano! Il kybano! Il kybano! Il kybano è di parezzare. purrò! Quasi stai? Sì! Voi andare a fare il kybano? Non mi lasse il tuo bella. Si lasse i bambini, non mi lasse la scuro, Non ci sono più di un'altra volta. Ian Giar? Non! Non senti bene la mia? Ci fa l'angai e non mi dimentica? È così! Voi in la foto non vi? Se stai avuto qui? No. Non c'è Ian Giar? E' un po' di più. La mia vita è stata fatta Il nostro corso Ma non ciò che ha mai fatto Ma è sì La mia vita è stata fatta La mia vita è stata fatta La mia vita è fatta La mia vita è fatta Come ti senti un po' di cose Come sai, sottotitolo? Non ti chiamo. Non ti chiamo. Ah, non ci si acc.' Non ci sono tutti gli occhi, ma'è mai imparata! Non ci lo prendo dentro. Ci sono immagini. Non ci sono tutti i movimenti. Non è ne! Nostro! Non è vero, non è vero, non è vero. Tu avuto Ora tu avuto? Tu avuto? Vai inarcoci C'è una roba, ma cosa? Ahaha, c'è anche qui a Anzara E' come un'Anzara a séria E' scusa che non d'acqua Anzara Falu, ma fatta già tutto, cosa a séria? grazie 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 Voi? 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 Non, non? Voi? Voi? Non? Lefone sono, non ma non, ma non, ci siamo più oltre nel vostro posto. Poi che ci sono semplici, non c'è questo, sì che ci sono credenti! Non ci ci sono alcuni, non? Sì, non! Lo anneschissimo, così va very же! odtre a te metti la sua fama? Ah, non! Voi ho messo con? Non! E i farbbi se r indemnino con? Non c'è tutto, non le faccio con un pochetto, non c'è una eccezza? Mi ha detto che siamo venuti a tutti i si. Beh! Ti chiedi a te? Ti chiedi a te? Sì! Ti chiedi a te? Eh? no 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 no's a per detenere da un'altra oltre uno solo qui non mi ha questa Glory non ci sta bene è che la prima leo è così anche lui no non ci vuoi non ci vuoi ma non cedere Ma che vuoi? Mi senti? Ma non c'è cosa che avevo le bambi? Ma non l'ai messo il donna Poi che fai se dimenticare come l'ai messo i messi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Non, 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 non. Riragio. Non ci vediamo? E' un'altra cosa, non ci vediamo? Non ci vediamo, ci vediamo. E' un'altra cosa... E' un'altra cosa che non si è a Zafatti? A Zafatti è un'altra cosa. Ha vinto a fare Zafatti? Arriba. Ci sono tutti i ghiacci. Ci sono i ghiacci. Ci sono. D'accordo. Convergo. Se l'ammaginio la vita, ci sono i bagnatori di tutti i gai. Ci sono i ghiacci. Ci sono i ghiacci. Noi, non è un mistero? Però siamo qui. Non mi sopravano. 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 Si è lì? Lui c'è lì, quando c'è la mia pianta Non ti vedi il nome d'un nome? Non ti vedi? Non ti vedi il nome? Non ti vedi Forse tutti tu li vedi che hai Davie, ti non vedi la mia qualità fa Non ci vedi il nome di un nome Non, sono. non si? se ne vede più così... non si ai conto questo mio figlio... non si ti vede più... non si vede più. non si vede più... non si vede più iniziali... non si vede più da qualche parte, non si vede più laasa... non si vede più partì... Ognuno dice che vengono da fare con la mia sanità? L'arie di metto saliamo e non è più che le giorni di metto saliamo? Le rispettiamo è! Non ci vuoi spiegare là canzone per le loro z員? Ora, l'ordine della loro grande! Ora! La per ora… ...mi sono solo la ultima. Ma poi, non è mai… ...E che ritorna dopo di sera? Ma non è l'inizio! Oggi non vi rimango lì, non vi rimango la terra. Non mi siamo veniti? No, stiamo! Non mi soida, non mi soida… Ma ti fa? Non mi soida! Ma non ti accade… Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Ma Cristo. Non mi fa male. Tu non lo vedi? Tuongi cosa? Noi non ti solleve, non lo vedi. Ti stai da una brani, non lo vedi, non l'allezgo. Ti stai da una brani. Ti stai da una brani, non Psalmasta lei. No, tui? No, non ti sembrava. Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Non. Non. Ascettare la macchina. Grazie a tutti. grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti mi ha detto no non è edito Sì. 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 Sielli sono sì. Hilato Sia! Mi interrattavo so che mi interrattavo. Tu non mi sono sempre la mia! l'ucusso di lasciare, norse a lei che non dormire. Non si è che un male! Sia mia che è un male... ...le parole... ...ma anche una cosa che mi piace. La mia dottima volta così! Ti hai detto che fa a la scola che la mamma, Iscriviti in un'impio per voi? Perché io non ciò che si è fatta da casa. Non è riuscito a fare questa vita. Non è riuscito a fare questa vita. Non ciò che non ciò che non è riuscito a fare questa vita. E noi stiamo a fare la vita! Non è riuscito a fare il resto. non è un po' di nuovo non è un po' di nuovo no è un po' di nuovo non lo dovrei come si può non lo trovo Adesso le mie sono alcune, ma anche potente vedi. Ma sono andati a tutti, mi sono andato a l'ultimo di cuore. Eh, che hai fatto! Perché io non ho avuto più l'otido prima. Non ho già l'appunto, ma cosa st immediately? Ah, che credo hai scoperto prima dopo la vita? Si, mi pensi che l'oniamo a vedere di questo tipo? No, non lo so. Vai farlo, non lo so. Sì, non lo so? No, non lo so? Non lo so? Non lo so, ma ne so? Non lo so, non lo so? se che venia non a te capo ma a ruaniza di Sanche a lui le fiorno a lui viena a tutti a lui viena 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 Sì, non è vero, non è vero, non è vero. No! 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 No te vedi a te non perdere! No! 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 si è venuta a farlo di varie. Andiamo all'inizio, con il quadro sul fatto che negativo non l'uolo l'uolo, perché, nel momento in cui l'uolo, il cciolo, senza l'uolo il cuore, ma poi la parola di loro mi Davies. chiudere? non ci sono mai che scopri non ci sono ma' che è che chiudere? e che non ci stai a Grazie. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Ahahahahahahah L'immagine che c'è una vaccina Un appartamento che ci sia Non ci sia L'immagine che c'è la sua Non ci sono�ati Non ci sono Nessun insieme C'è l'interno di un'altra cosa? ma pomita pantani nas we manina marata bethaka nini andras with siri a kofito baravaraki nito you are tena fiara salami ah ah leo luigi Buon taglio. Buon taglio. Buon taglio? Buon taglio sempre. Ora i metti i vieni. Non so come i vieni. Mi viene andata ai ne costi. Mi vai avendo qui. Mi sai chiamata per. Perciò delle scuole. Inse. Non si trova più volte. Tu scuola! Ma la stessa mi guarda non fari. l'obiettel, non ti è un po' di più? non sono bene sono ... ho detto che sono i tuoi, che sono i tuoi, i tuoi. Prendi sempre, anche se mi sono avanti, insomma e capire le mie nuove spiege. Noi non so, ma non so, ma... cosa è? Lo sapevano anche chi? è semplicemente Dichoro ho messo in casa. Si vedi a un'altra parte. Mi sento a un'altra parte. Mi sento a un'altra parte. Yanzara! 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 C'è un'altra parte! Non so, mi senti la mia madre. Mi senti una madre. l'acca di tàfi se vuole che non sono in una rotazione perché non è anche una luce di vivere ma non si vuole ma si vuole ma non 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 si vuole e ci vuole come si sta Grazie a tutti 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 Grazie a tutti